Oggi scopriamo come utilizzare Google Fogli in un modo un po' particolare, creativo, per l'autovalutazione degli studenti. Ma prima, se mi conoscete già bentornati, altrimenti benvenuti. Io sono Jessica, qui sul canale parliamo di tecnologia creativa ed educativa, quindi se siete interessati a questi argomenti potete iscrivervi e attivare la campanella. Come vi dicevo, oggi utilizzeremo Google Fogli, che è uno strumento che in realtà qui sul canale vediamo poco e anche all'interno della scuola non viene utilizzato tantissimo rispetto agli altri strumenti di Google Workspace. Però lo vediamo in una maniera un po' particolare, perché non parliamo espressamente di formule e di numeri, ma ne parliamo per creare degli strumenti, delle risorse per l'autovalutazione degli studenti. Faccio un passo indietro perché vi racconto come sono arrivata a proporvi questo tipo di attività. Allora, visto che negli ultimi mesi ho avuto l'opportunità di collaborare con esperti di neuroscienze e scienze cognitive, abbiamo parlato assieme a loro dell'importanza delle basi su cui si fondano poi le attività anche attraverso le tecnologie. Quindi solitamente negli ultimi anni abbiamo visto come si utilizzano le tecnologie, ma all'interno della didattica quello che è importante è anche il perché. Quindi non soltanto perché si utilizzano le tecnologie, ma perché proponiamo determinate attività agli studenti e quali sono le basi scientifiche anche che ci permettono di capire che queste attività diventano efficaci. In particolare, nella prima parte del nostro approfondimento, poi vi dirò anche dove potete trovare questi approfondimenti, abbiamo parlato dell'importanza del consolidamento delle informazioni, del consolidamento delle conoscenze. Quindi ovviamente è importante la prima parte in cui vengono proposte queste conoscenze agli studenti attraverso le lezioni, attraverso i libri per scoperta, ma è importante anche e soprattutto per ricordarle nel lungo periodo anche il consolidamento. Per il consolidamento è importante che gli insegnanti propongano delle attività nel corso del tempo in modo tale che gli studenti possano andare a recuperare quelle conoscenze che hanno scoperto, diciamo così. Questo lo si può fare anche attraverso soprattutto attività di autovalutazione, quindi non attività che vengono valutate e vengono inserite come voti sul registro, ma che servono agli studenti per verificare se sono riusciti a recuperare le informazioni che avevano appreso. Ovviamente questo tipo di attività può essere fatta in tantissimi modi diversi e possiamo utilizzare anche le tecnologie per creare questi quiz o test di autovalutazione. Li chiamo quiz e test in modo generico, ma ci sono diversi tipi di quiz e test appunto per il consolidamento. Quello che oggi vi voglio proporre io è un'autovalutazione attraverso Google Fogli che ci permetterà attraverso una funzione particolare che è la formatazione condizionale di dare subito dei feedback agli studenti in modo tale che non solo rispondano alle diverse domande o completino in questo caso le frasi che abbiamo inserito, ma anche siano in grado di sapere fin da subito se la risposta che hanno dato è giusta oppure no. E questo li aiuterà a recuperare l'informazione, ma anche ad autovalutarsi. E quindi eventualmente puoi andare a riprendere lo stesso concetto sui libri o sui supporti che abbiamo dato e ripassarlo, riprenderlo per consolidarlo maggiormente. Andiamo quindi su Google Fogli a vedere cosa vi propongo. Eccoci qui, ovviamente voi potete utilizzare l'argomento che preferite, questo è soltanto un esempio proprio per il consolidamento e il recupero delle informazioni. In questo caso io sto lavorando sui numeri, ma voi potete lavorare anche sulle parole o le lettere. Innanzitutto questo template, quindi questo modello, l'ho preso direttamente tra i modelli di Google Fogli questo addirittura era un estratto conto, ma mi piaceva graficamente, quindi ho utilizzato direttamente questo e ovviamente l'ho personalizzato. Quello che sono andata a fare è inserire delle frasi che devono essere completate, in questo caso vedete che sto lavorando ad esempio tra le altre cose anche sul numero scritto in lettere e non in cifre. In questo caso però i bambini o i ragazzi dovranno scrivere in cifre invece all'interno della casellina corrispondente il numero che va a completare la frase. Ad esempio il quadruplo di 20 è, e dovranno scrivere ovviamente 80, oppure il triplo di 8 è, e dovranno scrivere in cifre 24 e così via. Vi faccio vedere come funziona, quindi partiamo proprio da questa visto che siamo qua. Allora la seconda frase è il triplo di 8 è, noi sappiamo che la risposta giusta è 24, all'interno della casellina adesso non c'è niente, quindi la casellina è in verde. Se noi andiamo a scrivere ad esempio 24, ecco qui che abbiamo già il feedback, quindi il colore verde della cella. La cella si colora di verde come sfondo. Se noi andiamo a scrivere invece un numero sbagliato, ad esempio scriviamo 16, ecco qui, la casellina si colora di rosso e quindi i bambini e i ragazzi hanno già direttamente un feedback su quello che sono andati ad indicare. Quindi adesso togliamo e vi faccio vedere come ho fatto, quindi l'ultima è ancora vuota, non l'ho ancora formattata, la metà di 4 è, noi sappiamo che la risposta giusta è 2, allora andiamo a vedere come fare per formattare questa cella. Dovremo andare ad utilizzare la formattazione condizionale, che è una sorta di programmazione che andiamo a fare di quello che deve succedere all'interno della cella. la troviamo in formato, formattazione condizionale. Vedete che abbiamo delle regole di formattazione, quindi andiamo a dire quali sono le condizioni e le conseguenze di queste condizioni. In generale vedete che vi applica già la regola alla cella che avete indicato, quindi vi trovate in questo caso, noi ci troviamo nella G14 e ha già inserito qui il numero e le coordinate della cella, ma voi ovviamente potete andare ad inserire altre celle oppure inserire anche proprio degli intervalli. E sotto andiamo ad inserire le nostre regole. In questo caso diciamo innanzitutto che se la cella è vuota, quindi non c'è nessun numero, allora, e vedete che sotto andiamo a lavorare con la formattazione, ed è per questo che si chiama formattazione condizionale, la nostra condizione è se la cella è vuota, allora cosa succede? Il colore di riempimento della cella per noi sarà il bianco, quindi andiamo a selezionare il secchiello ed ecco che andiamo a scegliere il bianco. Possiamo lavorare anche su altri aspetti, ad esempio possiamo andare a lavorare sulla formattazione del testo che c'è all'interno della cella, altrimenti ci fermiamo qui e andiamo quindi su fine. Per ora abbiamo soltanto una regola, inseriamo le altre, quelle che ci danno un feedback sulla risposta giusta o la risposta sbagliata, quindi andiamo su aggiungi un'altra regola e andiamo ad indicare in questo caso cosa deve succedere in caso di risposta giusta. La risposta giusta nel nostro caso è 2, poi in base a quello che andrete a scrivere sarà ovviamente diversa, e noi andiamo a dire che se la risposta, se il testo all'interno della cella è uguale a, andiamo a indicare il valore nel campo inferiore. Andiamo a scrivere 2, quindi la nostra condizione se il valore all'interno della cella è uguale a 2. Allora cosa succederà? Andiamo a prendere il colore di riempimento e diciamo che dovrà essere verde. Ovviamente questa è una convenzione, il verde giusto e il rosso sbagliato, decidete un tipo di codice assieme colore assieme ai vostri studenti. Ok, andiamo su fine e aggiungiamo un'altra regola. In questo caso diamo la regola anche in caso di risposta sbagliata. Allora, tutte le risposte diverse da 2 sono sbagliate, perché in questo caso la metà di 4 è 2, e quindi dobbiamo dire che in caso, nel caso in cui il valore all'interno della cella sia diverso da, è diverso da, andiamo a scegliere tra tutte le condizioni che abbiamo a disposizione, andate a vederle così magari vi viene in mente anche qualche altra tipologia di condizione, è diverso da 2, ok, allora lo sfondo dovrà essere rosso, in questo modo. Andiamo su fine e verifichiamo, quindi la metà di 4 è 2, perfetto, ci dice che la nostra risposta è giusta, la metà di 4 è 3, ci dice che la nostra risposta è sbagliata. Cosa possiamo fare adesso con il nostro foglio? Lo andiamo ovviamente a salvare, anzi verifichiamo che sia stato salvato direttamente, e poi quello che possiamo fare, è ad esempio andare su Classroom, e assegnarlo come compito, andiamo a scrivere ad esempio, ripasso numeri in lettere, ecco qui, andiamo a caricare il nostro file direttamente da Drive, perché lo abbiamo già creato lì, eccolo qui, lo selezioniamo e lo inseriamo, e poi andiamo a creare una copia per ogni studente, perché ogni studente avrà il proprio foglio di autovalutazione, come dicevamo prima, non ci saranno vuoti, perché serve soltanto come autovalutazione per gli studenti, lo possiamo programmare in modo tale da avere la nostra programmazione, dei test di autovalutazione un po' scaglionati nel tempo, oppure lo andiamo direttamente ad assegnare. Ecco qui, questa è la mia proposta, ma ci sono tantissime altre modalità, tantissimi altri tipi di attività, che si possono fare per il consolidamento, abbiamo visto questo con Google Fogli, proprio perché Fogli è uno strumento che è veramente poco usato, anche se è molto potente, quindi possiamo riprenderlo anche per attività di questo tipo. Ma, e questo ve lo dicevo all'inizio, anche voi avrete la possibilità di scoprire tutte queste informazioni, e quindi di approfondire anche le neuroscienze, le scienze cognitive, e capire come quelle basi possono essere sfruttate per il lavoro in classe, e il lavoro in classe attraverso le tecnologie, perché abbiamo preparato un corso che si chiama Didattica efficace con Google Workspace for Education, che partirà il 14 febbraio, e all'interno di questo corso succede proprio quello che abbiamo visto adesso, quindi partiamo dalle neuroscienze, dalle scienze cognitive, per capire cosa c'è sotto all'apprendimento reale, un apprendimento duraturo e profondo, e proviamo a capire come utilizzare le tecnologie per andare incontro e favorire questo apprendimento profondo, e quindi la didattica efficace. Se siete interessati a questi argomenti, potete recuperare il webinar che abbiamo fatto per presentare il corso, ma potete anche andare a vedere le informazioni del corso, perché vi lascio tutto in descrizione. Vi basta cliccare qui sotto al video, c'è una piccola descrizione, vedete qualche riga, se cliccate la vedete tutta, e potete vedere anche i link di riferimento. Io ci tengo veramente tanto a questo corso, proprio perché dal come, quindi solo tecnicamente, come possiamo creare le nostre attività, andiamo, come vi dicevo, a recuperare il perché del fatto che facciamo questa attività, che proponiamo questa attività, quindi capiamo esattamente cosa c'è sotto, e perché sono efficaci queste attività, per poi proporre le nostre personalizzate, ovviamente. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, che tipo di autovalutazione proponete ai vostri studenti, quali strumenti utilizzate, ad esempio utilizzatissimo Google Moduli, ditemi anche se avevate mai utilizzato Google Fogli in questo modo. E ricordatevi che qui sul canale c'è un video ogni giovedì, qualche video extra anche a lunedì, quindi vi aspetto qui per continuare a parlare assieme a me di tecnologia educativa e creativa. Ciao! Grazie! Grazie!